Buonasera a tutti quanti, grazie mille per essere qui oggi, grazie naturalmente ai nostri importanti ospiti per aver accettato l'invito loro rivolto alla cultura democratica. Oggi parleremo di lobby e in particolare cercheremo di affrontare soprattutto all'inizio il tema della sfida per la trasparenza nei rapporti tra gruppi di pressione e istituzioni. La sfida per la trasparenza che è sicuramente legata a molteplici temi di grandissima rilevanza attualità, la sfida della crescita, la sfida della legalità. Perché oggi questo convegno? Questo convegno si inserisce in un progetto promosso da cultura democratica che è un team tank di giovani, di giovani professionisti, di giovani imprenditori, di giovani laureati e di giovani studenti. Quindi soprattutto di giovani, dove giovani significa che la media delle persone che fanno parte del team tank è meno di 26 anni. Sono giovani che hanno l'obiettivo soprattutto di costruire e realizzare insieme delle proposte per il Paese. Il nostro progetto, infatti, di cui questo convegno e appuntamento si chiama Costruiamo il futuro. Un progetto che ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, quali in particolare l'adesione del Presidente della Repubblica a Giorgio Napolitano e il padrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta certamente di una grande sfida, quella da parte di noi giovani laureati, laureandi, di dare un contributo su temi così complessi. Però sicuramente è la sfida che se noi giovani vogliamo avere un ruolo nel costruire il futuro che sogniamo per questo Paese, dobbiamo accettare e dobbiamo giocare. Sicuramente i riconoscimenti istituzionali sono stati un messaggio importante per noi di proseguire, anche se la sfida non è semplice, e di andare avanti. Perché c'è attenzione, c'è capacità di ascolto da parte delle istituzioni, c'è la volontà di ascoltare dei ragazzi se si pongono in maniera preparata e competente a questi temi. Cosa fa Cultura Democratica? Cultura Democratica organizza soprattutto convegni, come questo, convegni di informazione, perché la nostra idea è che per poter proporre una riforma, per poter lavorare ad una proposta, bisogna innanzitutto sapere di cosa si sta parlando. Quindi convegni di informazione e di riflessione comune, come questi, e poi la fase ancora più importante, proposte. Sul nostro sito web www.culturdemocratica.org sono già presenti le proposte realizzate finora, che spaziano su tutti i grandi temi dell'attualità del dibattito pubblico italiano ed europeo, dalla giustizia alla difesa, al lavoro, al welfare, e come oggi appunto il tema della trasparenza nei confronti della pubblica amministrazione. Oggi appunto parleremo di lobby e concludo dicendo, prima di dare la parola a Marco Millarte, che modererà il convegno, ai nostri illustri redditori, che ringrazio ancora per essere qui. Cultura democratica su cosa basa, diciamo, questa sua attività di informazione, formazione e proposte? Sicuramente sul tema della competenza, perché per cambiare il Paese è bisogno che ognuno di noi che partecipi a questi progetti abbia il proprio mattoncino da mettere nella costruzione del futuro che vogliamo. Poi il valore del merito, perché cultura democratica vuole sicuramente fare in modo che le competenze di ognuno vengano valorizzate, possano in qualche modo raggiungere le istituzioni e quindi diventare, se opportunamente elaborate, possano diventare veramente parte dell'ordinamento dello Stato. E poi trasparenza. Cultura democratica è una realtà indipendente, non riceve finanziamenti pubblici e pubblica sul proprio sito web tutti quanti i parlamentari e le personalità istituzionali che aderiscono alle nostre iniziative. sicuramente la sfida è quella che noi giovani possiamo diventare, non in conflitto con le altre generazioni, ma insieme alle altre generazioni, interlocutori credibili per il cambiamento che noi vogliamo in questo Paese. Questo è un piccolo mattoncino del nostro percorso, spero che costituisca l'inizio anche di una proposta da parte di noi giovani, in collaborazione anche con i nostri relatori, se vorranno proseguire con noi questo percorso, su questo tema. e tutte quante le altre proposte che noi da giovani sentiamo essere importanti per il nostro Paese. Dunque, buonasera a tutti. Cercherò di essere un buon moderatore e quindi di parlare il meno possibile. Pertanto comincerei subito ad introdurre il nostro primo ospite che gioca in caso, sarei dire, il professor Petrillo, che molti di voi certamente conosceranno, docente di teorie tecniche del lobbying qui alla Luis Guido Carli. Insegna inoltre anche all'Università Unitelma Sapienza, diritto pubblico. Nel 2007-2008 ha insegnato anche alla grande assemblea parlamentare della Repubblica di Turchia una rilevantissima attività di ricerca in passato in praticamente tutti i continenti, cioè l'Università di Edimburgo, l'Università di Tuscant in Uzbekistan, Columbia University in New York, l'Università di Montreal in Canada e via enumerando. Anche consulente presso la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, attualmente consulente invece presso il Ministero delle Politiche Agricole, si occupa della promozione del patrimonio agroalimentare per l'UNESCO, quindi quando qualcosa di italiano viene, diciamo così, protetto all'UNESCO, dobbiamo dire grazie anche al professor Petrillo. Inoltre anche consigliere giuridico del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nonché sempre nel medesimo di Castero anche è membro dell'Unità per la Trasparenza, di cui forse ci parlerà breve. Pertanto prego professore. Grazie, grazie molte, grazie molte agli organizzatori di questo convegno, al Presidente dell'Associazione dottor Castorina, al dottor Millarte che ha seguito i corsi che ho fatto qui in LUIS con una passione incredibile, lui da studente di giurisprudenza di quest'Ateneo, il corso che ricordava prima dottor Millarte non è un corso per lui possibile seguire, perché lui è un studente di giurisprudenza, io insegno a Scienze Politiche, tuttavia ha fatto un'intensa sensazione di lobby su questo Ateneo a tal punto da poter seguire questo corso e superare anche positivamente l'esame, che non gli vale assolutamente nulla nel suo percorso di studi, ma è una sorta di medaglia a valore civile in questo caso. Allora, io sono molto contento, quindi ringrazio voi tutti per aver organizzato questo convegno che a mia memoria, visto che io sono anche un prodotto di questo Ateneo perché sono laureato in questa università, è il secondo convegno dal periodo in cui ero studente ad oggi che viene dedicato a questo tema e il precedente convegno risale a una decina di anni fa, quindi mi sembra un'ottima occasione oggi per poter riparlare di questo tema con interlocutori ben più autorevoli del sottoscritto. Allora io vorrei fare una riflessione introduttiva direi di questo tema, ripetendo cose, me ne scuso con i studenti alcuni dei quali vedo presenti, se sono sempre le stesse cose, però in questo Paese sono convinto che valga la pena ripeterle all'infinito certi concetti perché forse dagli e dai alla fine qualcosa si ottiene, infatti come vedremo qualcosa si sta già ottenendo. Allora le lobby. Nell'immaginario collettivo questa parola evoca aggettivi estremamente negativi, tanto che si dice che le lobby sono incompatibili con un sistema democratico. L'idea stessa che ci siano delle organizzazioni che vogliano influenzare la mente dei decisori pubblici, che vogliano inficiare il processo decisionale, che in qualche modo vogliano corrompere la volontà del decisore pubblico, questa stessa idea è contraria ai modelli democratici. Allora partiamo da questa riflessione visto che chi organizza questa iniziativa si chiama cultura democratica. Allora le lobby sono o non sono compatibili con un sistema democratico. Qui tradizionalmente viene fatto osservare come nella visione giacobina delle istituzioni, del potere politico, della democrazia, il processo decisionale è qualcosa di generale astratto, vale a dire chi decide cerca di cogliere nell'iperuraneo la volontà generale. La legge, quale atto imperativo per eccellenza, è chiamata ad interpretare la volontà generale. La volontà generale prescinde dalla realtà. La volontà generale non si forma attraverso un confronto con la realtà, ma la volontà generale è qualcosa di cui i decisori sono portatori innati. Appunto la colgono nel sistema, preesiste al sistema stesso, preesiste anche alla volontà popolare. Questa visione giacobina esclude ogni possibilità di azione alle lobby. In questo contesto le lobby non possono esistere, perché se il decisore pubblico è chiamato a cogliere come sopra le nuvole la volontà generale, se la volontà generale è qualcosa appunto di astratto che prescinde dalla realtà, allora è evidente che chiunque voglia influenzare e determinare il processo decisionale è fuori gioco. Non a caso questa visione si è formata nel settecento dopo la rivoluzione francese, quando furono approvate proprio delle norme che avevano abolito i cosiddetti corpi intermedi, cioè tutti quei soggetti che si ponevano a metà strada tra la società e le istituzioni. Questa dell'abolizione dei corpi intermedi è un tema che ritorna, qualcuno forse ha letto recenti dichiarazioni di leader politici che sono tornati su questo punto dicendo che i corpi intermedi devono essere aboliti. Questo qualcuno l'aveva realizzato la prima metà dell'ottocento, ma sono passati due secoli, più di due secoli. Forse c'è un motivo se nel frattempo c'è stata l'evoluzione della specie umana. Dicevo, questa visione giacobina chiaramente rende le lobby del tutto incompatibili con la democrazia. C'è poi una visione contrapposta, che è una visione di stampo anglosassone, che, badate bene, vede nella legge quale atto imperativo. La legge è sempre l'espressione della volontà generale. Chi decide deve decidere sempre nell'interesse generale. Il punto è come si forma l'interesse generale. Nella visione giacobina l'interesse generale è qualcosa che preesiste al decisore, è qualcosa che il decisore è chiamato ad intuire. Mentre nella visione anglosassone l'interesse generale è il frutto di una contrapposizione tra interessi particolari. L'interesse generale è il frutto di un confronto tra chi decide e la realtà, e le tante facce della realtà. A tal punto che il decisore pubblico è chiamato ad assumere un compito ben preciso, cioè quello di scegliere tra tanti interessi, sintetizzare questa pluralità di interessi e assumere la decisione. Cioè il decisore pubblico in questa visione è estremamente responsabilizzato, perché il decisore pubblico è chiamato appunto a compiere una sintesi tra i vari interessi e a dire questo è l'interesse generale. Ma per arrivare a questa conclusione deve confrontarsi con portatori di interessi particolari. Ora la visione giacobina è una visione che a parte qualche stravagante esponente politico del nostro Paese è una visione che non trova più fondamento, tanto che laddove questa visione è nata, cioè in Francia, ormai è superata. Tanto è vero che esiste una regolamentazione delle lobby in Francia, almeno per quanto riguarda l'Assemblea nazionale. E diciamo, non vi è dubbio, la dottrina è unanime, gli osservatori sono unanimi nel considerare le lobby un fattore di democrazia. Cioè se voi andate ad analizzare i sistemi democratici e i sistemi non democratici, cosa potete osservare? Potete osservare che laddove non c'è democrazia nei sistemi dittatoriali, i corpi intermedi sono soppressi. Cioè nei sistemi non democratici non ci può essere spazio per i gruppi di pressione. E perché? Perché i gruppi di pressione si fondano innanzitutto sulla libertà associativa, si fondano sulla libertà di pensiero, sulla libertà di manifestazione del pensiero. Cioè l'esistenza stessa delle lobby è connaturata all'esistenza stessa della democrazia. A tal punto che ci sono alcuni autorevoli professori di scienza politica anche di questo Ateneo che evidenziano proprio una stretta relazione tra livello di democraticità di un ordinamento e livello di azione dei gruppi di pressione. Vare a dire maggiore, più significativo, più rilevante la presenza delle lobby, più democratico sarà il sistema. Non so se sono stato chiaro, nel caso poi immagino ci sarà un aspetto, un momento dedicato a delle domande. Ora, se questa è la situazione, è evidente, vale a dire se dobbiamo accettare il fatto che le lobby sono espressione della pluralità di un sistema democratico, cioè sono espressione diretta di un contesto pluralista, allora è evidente che ci dobbiamo porre una serie di problemi. In primo luogo, quali lobby e come le lobby esercitano la loro attività di influenza? Allora, quali lobby? Perché vedete, se noi prendiamo un giornale, sembra che tutto sia lobby. Qualsiasi cosa è lobby. Anch'io scherzando, prima ho detto che il dottor Millarte ha fatto lobby per... In realtà, per lobby si intende qualcosa di ben preciso. Le lobby sono dei gruppi di interesse, quindi dei gruppi di persone accomunati da un medesimo interesse, che decidono di influenzare il processo decisionale pubblico al fine di trarne un vantaggio, non necessariamente economico. Se questa è la definizione di lobby, dunque, uno, gruppo di interesse. Due, che influenza il processo decisionale pubblico. Tre, al fine di trarne un vantaggio, non necessariamente economico, è evidente che si riesce a fare un po' di chiarezza. Allora, il vostro collega non ha fatto lobby, perché casomai avrà influenzato la decisione del rettore o del preside, quindi non è un processo decisionale pubblico. Ma in altri casi, dando questa definizione di gruppi di pressione, è evidente che di fronte ad un'associazione, come può essere Cultura Democratica, che vuole intervenire nel dibattito pubblico, affinché il decisore assuma una serie di decisioni, di proposte legislative di un certo tipo, ecco, questa è chiaramente un'azione di lobby. Ma direte, vabbè, ma non ne guadagna Castorina, non ne guadagna nulla, almeno in termini economici, forse acquisirà in termini di credibilità, di autorevolezza, ma in termini economici non ne trarà alcun vantaggio, mi auguro, sono sicuro. Ma non è l'aspetto, questo è l'aspetto che qualifica la lobby, a mio avviso, cioè non è il guadagno economico. Anche Amnesty International, anche Legambiente, anche le associazioni di settore che si battono per alcuni, anche le associazioni di consumatori, sono delle lobby se cercano di influenzare il processo decisionale. Anche i sindacati sono delle lobby, almeno quando non operano all'interno delle procedure sindacali previste per legge. Dunque, quali lobby? Queste lobby. Ma il problema, allora, se le lobby, se queste lobby sono parte del sistema democratico, il problema, allora, è capire come questi soggetti intervengono nel processo legislativo, come riescono ad influenzare il processo legislativo, con quali strumenti? E soprattutto, com'è possibile che solo le lobby economicamente più forti riescono ad influenzare il processo decisionale? E questo fatto non è un fatto negativo per la democrazia, perché l'obiezione che generalmente mi viene fatta quando svolgo questa prima parte di riflessione è, vabbè, ma la democrazia è comunque influenzata dal fatto che ci sono lobby economicamente molto forti che accedono al decisore pubblico, mentre le lobby, pur portatrici di interessi bellissimi, non avendo soldi, non riescono a influenzare il processo decisionale. E questa è un'obiezione giustissima. Ed è a questo punto che servono le regole, servono delle norme che disciplinino l'azione di lobby. Vale a dire, in un sistema democratico in cui la pluralità è l'elemento che qualifica la democrazia, la pluralità cioè tante voci diverse che entrano in contrasto tra loro, è evidente che in un sistema così costituito, se non ci sono delle norme chiare che disciplinano l'azione di lobby, cioè l'azione di influenza del decisore pubblico, allora è evidente che un sistema democratico privo di queste norme non è poi così tanto democratico. Non so se mi spiego. Allora è interessato, e qui arriviamo al sistema italiano, in realtà l'ho presa da lontano ma sono quasi alla fine, e qui arriviamo al sistema italiano perché la questione successiva che mi voglio porre è benissimo, ma nel nostro sistema, quindi in Italia, dove le lobby ci sono, sono un dato di fatto, sono sotto gli occhi di tutti, pensate al governo, non so se dire al governo precedente, no perché è ancora in carica, quindi pensate al governo uscente, anche se forse uscirà tra un anno, ma insomma pensate al governo che abbiamo. Si è scontrato contro, abbiamo letto tutti quanti i giornali, la lobby dei farmacisti, la lobby dei tassisti, la lobby degli avvocati, la lobby dei notari. Queste corporazioni, questi gruppi di interesse tentavano di influenzare il decisore pubblico, peraltro ci sono riusciti, per evitare l'approvazione di determinate norme. Ebbene, allora chiediamo dunque che le lobby in Italia ci siano, non ci sono dubbi, è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che ci siano vuol dire che il nostro sistema è un sistema non democratico, no perché le lobby sono un fattore tipico di ogni democrazia. Il punto è capire se nel nostro ordinamento vi sono delle norme che disciplinano l'azione delle lobby e vi sono delle norme che rendono trasparente questo tipo di azione. Perché questo è il cuore del discorso, vedete il problema quando si parla di lobby non sono le lobby, il problema quando si parla di lobby sono le norme che ci sono e le norme che non ci sono. Non sono le lobby brutte, sporche, cattive che impediscono al Paese di crescere, sono casomai l'assenza di norme che permettono a tutti i portatori di interessi particolari di accedere al processo decisionale. In Italia le lobby sono riconosciute dall'ordinamento in modo implicito, vale a dire la Corte Costituzionale italiana in diverse sentenze ha più volte detto che l'attività di influenza che un privato svolge nei confronti del decisore pubblico è un'attività non solo legittima, ma è un'attività che trova un fondamento nel nostro ordinamento costituzionale. La Corte ha detto che l'azione di lobbying è l'espressione di un diritto costituzionale, per cui non è pensabile in nessuna misura abolire questa azione, questa attività. Dunque l'attività di lobby ha un fondamento costituzionale. Ora non vado nello specifico, ma nel caso ci sono qui gli studenti che hanno concluso il corso brillantemente e che saranno a disposizione per analizzare il dettato costituzionale e dire ai colleghi quali sono le norme che disciplinano l'azione di lobby nella nostra Costituzione. Dunque le lobby ci sono, le lobby operano nel nostro contesto. Qui abbiamo autorevoli lobbisti, l'amico Velardi è anzi uno dei principali, ha fondato la prima grande società di lobby in Italia. Dottor Lucchini rappresenta un portatore di interesse di grande rispetto in questo contesto. Quindi le lobby ci sono, le abbiamo anche a questo tavolo, sono espressione di un diritto costituzionale. La questione è nel nostro ordinamento l'azione di lobbying se è regolamentata oppure no. E qui la risposta è un po' simile a quella di uno studente che ha una domanda d'esame e non sa esattamente cosa rispondere. Quindi dice guardi sono tutelate? La risposta è sì e no. Ci sono delle norme? Sì e no. Che vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a vedere nell'ordinamento giuridico italiano se ci sono delle norme dedicate alle lobby, in realtà ne troviamo tantissime. Almeno un centinaio di norme sono dedicate ai gruppi di pressione. Almeno un centinaio di norme ci dicono come le lobby devono essere coinvolte nel processo decisionale. Ci impongono una serie di requisiti di trasparenza del decisore pubblico e dei lobbisti. Cioè norme in materia di lobby non mancano, anzi casomai ce ne sono troppe di norme. A tal punto che succede spesso che il ministro di turno annuncia l'approvazione di nuove norme sulla trasparenza. Non so se avete sentito ultimamente. Abbiamo approvato delle nuove norme con cui si fissa un tetto di 150 euro per i decisori pubblici. Purtroppo nessuno ricorda che questa norma c'è già dal 1992. Poi per carità nessuno l'ha applicata per cui nel nostro sistema conviene ogni tanto riapprovare la stessa norma che c'era pure prima. Oppure ogni tanto sentiamo dire adesso ci sono norme che rendono obbligatorio pubblicare gli interessi economici degli eletti. Cioè noi dobbiamo sapere tutti gli eletti alla Camera e al Senato quali sono gli interessi di cui sono portatori. Questa è una grande novità. Veramente è dal 1982 che c'è una legge che introduce questo obbligo. Per carità ripetiamolo, ribadiamolo, facciamo una nuova legge con cui ripetiamo lo stesso obbligo. Però di norme che impongono la trasparenza e che disciplinano la relazione tra lobby e decisore pubblico in Italia ce ne sono una marea. Cos'è in realtà che manca? Manca una norma organica. Cioè manca una legge o un atto anche non solo legislativo. Saranno almeno dieci anni, vero Stefano, che ripetiamo in tutte le sedi, in tutte le salse, anche istituzionali e anche in contesti differenti la necessità che serve una legge organica. Che vuol dire una legge organica? Una norma che faccia un po' di chiarezza, che ci dice cosa sono le lobby, che valga per tutti i livelli di governo. Perché vedete a livello di regione noi abbiamo ben tre regioni che hanno approvato tre leggi differenti in materia di lobby. Se voi volete fare lobby in Toscana c'è una legge del 2002 che vi dice cosa dovete fare. Se voi volete fare lobby in Molise c'è un'altra legge che vi dice cosa dovete fare. Peraltro la legge molisana è copia e incolla della legge Toscana. Se volete fare lobby in Abruzzo c'è una legge che vi dice cosa fare per fare lobby in Abruzzo. Quindi anche a livello regionale abbiamo delle leggi che disciplinano la materia. Allora che cosa servirebbe? Servirebbe una legge che dica una volta per tutti e per tutti i livelli di governo che cos'è una lobby, come questi soggetti devono essere coinvolti nel processo decisionale, che permetta a tutte le lobby di rapportarsi al decisore pubblico e non solo alle lobby che hanno rapporti di clientela o di parentela col decisore pubblico. Perché questo è il punto a mio avviso. Oggi come oggi un gruppo di pressione riesce a interagire col decisore pubblico solo sulla base di rapporti. Lo scriveva, pensate un po', uno studioso americano, Joseph La Palombara, negli anni 50. Come fa un gruppo di pressione a rapportarsi al decisore pubblico in Italia? Attraverso rapporti di clientela, cioè di vantaggi economici reciproci o di parentela? Tu sei l'amico di, tu sei il figlio di. Ecco, la norma che da tempo viene richiesta a gran voce in tutte le salse è una norma che dovrebbe rompere questa spirale della clientela e della parentela e consentire a tutti i portatori di interessi di avere uguale accesso al decisore pubblico. Una norma però che renda anzitutto trasparente l'identità delle lobby. Cioè, se qualcuno di voi e i laureandi in questa materia lo sanno bene, vuole ricostruire la filiera del processo decisionale, cioè vuole scoprire come mai a un certo punto il Parlamento ha deciso di divarare una certa norma. Cosa c'è dietro quella norma? Quali sono i portatori di interessi che hanno sostenuto quella norma o bloccato quella norma? Se vogliamo ricostruire la filiera del processo decisionale non sappiamo cosa fare. Cioè, per carità, grazie agli atti parlamentari possiamo capire più o meno gli orientamenti della maggioranza, gli orientamenti dell'opposizione, ma noi non conosciamo l'identità dei lobbisti. E questo perché in Italia manca un registro delle lobby, cosa che esiste in molti paesi, in quasi tutte le democrazie avanzate, esiste anche a livello di un'europea. Manca un registro dei lobbisti. Allora questa legge dovrebbe prevedere anche il registro dei lobbisti. Diceva prima il vostro collega Millarte che al Ministero delle Politiche Agricole qualcosa è stato fatto. E questo è vero, nel senso che l'anno scorso il Ministro in carica ha istituito l'unità per la trasparenza. Vale a dire un ufficio a costo zero, tutti gli incarichi che diceva prima che io sono tutti a costo zero, lo dico perché ci tengo a dirlo, visto che sono lavori gratuiti che svolgo. Dicevo l'unità per la trasparenza è un ufficio che ha il compito di fare che cosa? Di gestire i rapporti tra le lobby e il decisore pubblico. E per gestire i rapporti tra le lobby e il Ministero delle Politiche Agricole pensate un Ministero di grande rilevanza. Non pensate diciamo all'agricoltore diretto, pensate a tutto il mondo della trasformazione dell'agroalimentare. Pensate al mondo del tabacco, pensate alle grandi industrie dell'alimentazione. Per fortuna l'Italia vanta tante multinazionali in questo settore. Ecco, dicevo, il Ministero ha istituito un ufficio, un registro delle lobby. Se voi andate sul sito web del Ministero trovate l'elenco dei lobbisti. Chiunque vuole fare attività di lobby presso il Ministero è obbligato a iscriversi in un registro pubblico, dichiarando una serie di elementi, di dati economici, dichiarando chi è il portatore di interesse, chi fa lobby, eccetera. Questo è stato avviato un anno fa. A novembre siamo riusciti anche tecnicamente a realizzare l'elenco dei lobbisti. Chiunque oggi va sul sito del Ministero e scopre l'identità dei lobbisti. Non vi nascondo che questa azione è fortemente contrariata e contrastata da alcuni soggetti. Cioè da coloro che fino ad ora avevano un rapporto privilegiato con l'amministrazione. Da coloro che avevano un monopolio esclusivo del flusso informativo. Perché nel momento stesso in cui introduci una regola come quella che abbiamo introdotto e che speriamo venga allargata tutta l'amministrazione centrale. Cioè una regola secondo cui chi vuole fare lobby, cioè chi vuole influenzare il processo decisionale dell'amministrazione, deve iscriversi in un registro dichiarando quanti soldi ha a disposizione per fare lobby, quali sono i loro obiettivi. E questa stessa regola dice che tu, amministrazione, devi ascoltare tutti i soggetti scritti, tutti per lo stesso tempo, con le stesse forme di trasparenza e tutti allo stesso modo, senza consentire ad un soggetto di essere ascoltato di più rispetto ad un altro soggetto. Quando tu introduci delle norme in cui prevedi che questo meccanismo proceda secondo binari trasparenti. Cioè tutti sanno cosa accade, tutti sanno cosa la lobby X sta proponendo e cosa la lobby Y sta riproponendo. È evidente che chi fino ad ora ha avuto il monopolio esclusivo dei flussi informativi, chi fino ad ora ha avuto accessi privilegiati in virtù di quei rapporti di clientela e parentela di cui vi dicevo prima, contrasta in tutti i modi una normativa di questo tipo. Quindi quando qualcuno mi dice ma com'è possibile che la vostra azione per una legge di questo tipo non venga approvata, non venga sostenuta e questa legge non venga approvata. È evidente che c'è un interesse fortissimo da parte di alcune lobby che detengono il potere e l'esclusiva in alcuni settori, anche alcuni sindacati sia chiaro, è evidente che non hanno alcun interesse ad una legge di questo tipo perché ciò farebbe perdere il loro privilegio basato appunto su questo rapporto esclusivo. Io il sistema italiano non a caso, il sistema di regolamentazione delle lobby italiano non a caso lo ho definito regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico. Che vuol dire? Vuol dire che la regolamentazione delle lobby in Italia c'è ma striscia nell'ordinamento. Vedete come un serpente sul deserto, non alza la testa, striscia, zizzaga, non si fa riconoscere. Appunto un po' come le lobby che non vogliono troppo farsi riconoscere, soprattutto quelle non oneste, no? Ecco allora le norme in materia di lobby voi le trovate nascoste, confuse, in leggi che trattano tutt'altro. Che ne so, prendete la legge che rintroduceva il nucleare, trovate una normetta sulle lobby. Prendete la legge che istituisce il ministero dell'ambiente, trovate una normetta sulle lobby. La legge sul processo, sul funzionamento del governo, trovate una normetta in materia di lobby. In questo senso regolamentazione strisciante. Perché ad andamento schizofrenico? Perché vedete queste normette che vi ho citato e vi ricordate nel momento in cui vi ho citato questa pluralità di norme vi ho detto servirebbero due cose. La prima cosa è una legge organica che faccia chiarezza. La seconda cosa, e questo è l'elemento cruciale, è che il legislatore faccia pace con se stesso. Cioè decida se applicare o meno le leggi che approva. Perché queste centinaia di norme in materia di lobby e di trasparenza vengono disapplicate dagli stessi soggetti che le hanno introdotte. Cioè il legislatore che introduce norme di questo tipo poi le viola. Pensate alla legge del 1982 che citavo prima, la cosiddetta legge sull'anagrafe patrimoniale degli eletti. È dal 1982 che è obbligatorio per legge, per tutti gli eletti di ogni livello di governo, rendere pubblici gli interessi economici di cui sono portatori. Attenzione, non rendere pubblica la dichiarazione dei redditi. Rendere pubblici gli interessi di cui sono portatori. Tutti gli interessi. 1982, la legge c'è. Siamo nel 2013. Io sfido chiunque di voi a collegarsi sul sito della Camera e del Senato e vedere quali deputati e quanti deputati hanno dichiarato gli interessi di cui sono portatori. Ma la legge c'è. Chi l'ha approvata questa legge? Il Parlamento italiano. E però viene disapplicata da chi? Dal Parlamento italiano. Allora ecco l'andamento schizofrenico di questa regolamentazione. Perché vedete, in psichiatria si chiama schizofrenia proprio quell'atteggiamento di chi dichiara di voler portare avanti una serie di azioni e poi fa esattamente l'opposto. Allora, per usare un termine non offensivo, l'ho definito appunto schizofrenico. Come ne usciamo da questa situazione? A mio avviso ne usciamo con una speranza. Ecco, vorrei dare una speranza. Un grande professore di economia al quale ero molto legato, Paolo Silo Slabini, in una serie di pomeriggi che passavo da lui e lui mi raccontava un sacco di cose, mi raccontò questa storia che mi colpì e che quindi condivido con voi. E cioè, gli ambasciatori della Repubblica di Venezia, al tempo dei Dogi di Venezia, furono invitati, inviati dai Dogi veneti a fare un viaggio in Gran Bretagna e a stringere accordi commerciali con la Gran Bretagna e poi partirono gli ambasciatori, andarono a Londra, strinsero accordi, stettero quasi un anno gli ambasciatori della Repubblica di Venezia in Gran Bretagna e poi tornarono a Venezia e il Dogi disse, bene, che cosa avete scoperto in Gran Bretagna? Com'è lì la situazione. I Dogi dissero gli accordi che avevano stretto e poi dissero, beh, ci sono però due fatti che ci colpiscono della Gran Bretagna. Il primo fatto è che è un paese in cui si mangia benissimo e il secondo fatto è un paese altamente corrotto. Ora, oggi noi se pensiamo alla Gran Bretagna pensiamo a un paese in cui si mangia malissimo ma quantomeno il livello di corruzione è bassissimo. Io auspico per il nostro paese che magari non tra cento anni ma tra dieci anni un ambasciatore britannico venga in Italia e tornando a casa dica, guardate, in Italia si mangia malissimo ma almeno il paese ha una regolamentazione delle lobby. Grazie. Grazie, grazie professor Petrillo. Introduco subito la prossima nostra illustrissima ospite, la dottoressa Anna Maria Villa, consigliera della Presidenza del Consiglio. Una splendida carriera all'interno di una delle massime istituzioni italiane, quale è appunto la Presidenza del Consiglio. Prima al Dipartimento per la Funzione pubblica con vari incarichi, successivamente all'Ufficio per il controllo interno, sempre all'interno della Presidenza del Consiglio e ora al Dipartimento per le politiche europee. Ci sarebbe molto altro da dire ma per ragioni di tempo, mi scuseranno i nostri ospiti, ho messo numerose informazioni relativamente il loro curriculum. Quindi prego, dottoressa. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie, non merito tutta questa fama e questa gloria, comunque sono anch'io un prodotto della LUIS, quindi sono contenta di partecipare sempre ad iniziative che si svolgono presso questa università perché comunque sono molto legata, sono stati anni molto belli e quindi ci vengo sempre con molto piacere anche se faccio parte della generazione che era di Via Pola, quindi dei vecchi, voi siete i nuovi. Allora dunque ho fatto diverse esperienze anche private, anche in ENI e sono transitata attraverso l'ENI al Ministero dell'Ambiente, quindi alla Presidenza e quindi mi occupo di politiche europee. Al Dipartimento sono la responsabile dell'Ufficio Cittadinanza Europea che con il Governo che è tuttora in carica, insomma, in carica no, ma che esiste ancora, ho avuto anche una serie di altre competenze attribuite che sono competenze molto interessanti e che ho preso solo da qualche settimana e sono appunto le competenze relative al mercato interno, quindi all'attuazione di tutte quelle politiche che previste nel single market 1 e 2 dovrebbero contribuire all'integrazione del mercato, al rilancio dell'economia, all'occupazione, alla mobilità e tutte le cose che avete letto sui giornali. Questa è un'attività che mi interessa moltissimo e sicuramente dovendo noi come Dipartimento gestire anche la parte, perché noi siamo la struttura del Presidente del Consiglio dei Ministri che opera e dà assistenza al Presidente per la formazione della posizione italiana a livello europeo e non solo, una volta stabilita una determinata normativa, alla sua corretta applicazione in Italia dove, come molti di voi sapranno, ci sono non solo leggi nazionali ma regionali e via di seguito che contribuiscono alla trasposizione e all'attuazione non sempre facile delle normative. Quindi un tema come la lobby è sicuramente per noi molto importante perché lavoriamo anche con i lobbisti e non solo. Non è ancora il mio caso, ripeto, perché è da poco che ho preso queste competenze, però avendo seguito la parte comunicazione ed avendo gestito tutta una serie di attività che illustravano che cosa faceva il Dipartimento, bene o male ne ho avuto sentore. Allora, diciamo che sono assolutamente d'accordo con l'intervento, sull'impostazione dell'intervento del Professor Petrillo, che tra l'altro è stato anche nostro Vice Capo di Gabinetto nel precedente governo, quello veramente precedente, e spesso discutevamo sull'importanza della regolamentazione della lobby. Io qui non ho la presunzione eventualmente di darvi una, diciamo, soluzione, perché capite bene, anche da quello che ha detto lo stesso Professore, non è che si può dare una soluzione, però è importante che voi, soprattutto i ragazzi, iniziate a conoscere quali sono i vostri diritti, soprattutto quelli garantiti a livello europeo, averne consapevolezza e quindi cercare un'applicazione pratica di questi diritti sotto ogni punto di vista, anche attraverso una partecipazione attiva, che per esempio la lobby può garantire. Allora, io mi sono portata dietro delle slide che avevo già presentato a un vecchio convegno, a cui avevo partecipato, sempre insieme al Professor Petrillo con alcuni studenti della LUIS, al Ministero dell'Agricoltura. Queste slide hanno un titolo un po' provocatorio, lobby, no grazie. Perché questo? Perché noi italiani, quando sentiamo parlare di lobby, storciamo sempre un po' il naso, diciamo, bah, chi sa chi c'è dietro, è l'amico di questo, è l'amico di quell'altro. Purtroppo questo nasce, come diceva giustamente il Professore, dal fatto che, pur essendoci tante piccole leggi, anche costituzionali, che garantiscono questa partecipazione attiva della cittadinanza, purtroppo non c'è un quadro di insieme chiaro e trasparente, per cui, diciamo, l'attenzione a questi interessi privati, oppure di alcune categorie, venga data in un modo chiaro, oggettivo, trasparente. Spesso, appunto, come dice la seconda slide, perché è questo? Perché spesso la lobby si fonda o su grandi aziende che, va bene, hanno una struttura tale e si conoscono, fanno capo a delle associazioni note, Confindustria e quant'altro, oppure, nei piccoli centri dove ci sono comunque amministrazioni locali, in base a delle conoscenze personali che magari quell'assessore può avere, quella società può avere e via di seguito. E, come diceva giustamente, sempre il professore, questo sistema è spesso voluto mantenere in queste condizioni, anche perché quelle società, oppure quei gruppi che hanno già un rapporto con i decisori pubblici, hanno un vantaggio competitivo rispetto agli altri e quindi hanno tutto l'interesse che certe cose possano essere mantenute più a lungo, almeno questo potrebbe essere anche una delle spiegazioni, ovviamente non è la sola. Allora, andiamo intanto a dire che cos'è una definizione della lobby. Ho preso quella che viene data a livello europeo, a livello europeo esiste un registro che regolamenta le lobby e all'articolo 8 questo stabilisce che la lobby è un insieme di attività svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e dei processi decisionali delle istituzioni e dell'Unione, a prescindere da canali e dei mezzi di comunicazione. Quindi, in questa definizione c'è tutto, c'è l'influenza, c'è l'elaborazione, l'attuazione delle politiche e dei programmi, quindi è un sistema che si sa che è fatto per influenzare. Però, allora, che cos'è che caratterizza la bontà di questo sistema europeo? E appunto, come vedremo dopo, la trasparenza, l'organicità, una specie di regolamentazione che però non deve essere una regolamentazione che ovviamente noi auspichiamo tutti sia fissa, rigida e che blocchi, ma deve essere un qualcosa di soft che dia almeno dei criteri che ci si ispiri, ai quali ispirarsi e che venga così seguita dalle varie amministrazioni e dalle varie associazioni private. Allora, perché è importante l'ascolto dal basso da parte dell'Unione europea? La lobby, diciamo, si inserisce in questo quadro. L'Unione europea, ad ogni livello, cerca sempre, attraverso delle consultazioni pubbliche, soprattutto di grandi sondaggisti come Eurobarometro e via di seguito, di ascoltare quali sono le esigenze locali. Lancia sempre, prima della proposta di una direttiva, delle consultazioni che poi danno luogo a dei libri verdi e quindi poi a delle proposte, delle direttive, in cui viene chiesto ai cittadini o ai gruppi di interesse cosa pensano di una determinata eventuale proposta normativa. L'Italia, nel nostro Dipartimento, quando noi conosciamo questi libri verdi, queste richieste di attenzione alla cittadinanza, noi di solito le mettiamo sul nostro sito, chiamiamo i nostri gruppi di interesse con cui abbiamo maggiori contatti e cerchiamo di rispondere come Stato europeo. Ovviamente la risposta che voi date, cittadini, a queste consultazioni è importante sia per la Commissione che poi deve impostare la propria proposta al Consiglio dove gli Stati vanno e decidono, ma sia anche allo Stato, cioè a noi, ai civil servant, che vanno a discutere in ogni gruppo quelle che sono le varie regolamentazioni, perché in questo modo conosciamo quali sono le linee di tendenza a livello locale su una determinata azione o piuttosto che un'altra. Il Trattato di Lisbona ha anche introdotto, mi sembra, all'articolo 11, l'iniziativa legislativa popolare. Che cosa consiste? Consiste nella possibilità che dei gruppi di interesse propongono alla Commissione, senza bisogno della consultazione, delle normative oppure della regolamentazione di alcuni settori in modo tale da poter disciplinare meglio e quindi realizzare meglio quelli che sono i diritti fondamentali di ciascun cittadino. Altra caratteristica, insomma, è quella del mediatore europeo, adesso non me le sto qui a elencare tutte, e anche il diritto di petizione è stabilito nell'articolo 224 del TF dell'Unione Europea, l'istanza o reclamo al Parlamento Europeo per attività che l'Unione Europea magari porta avanti non correttamente. Aggiungo anche, vi sono delle reti europee come il Solvit, probabilmente voi non ne sapete completamente il funzionamento, però è importante che incominciate a conoscere questi strumenti perché voi siete cittadini europei, lo siete dalla nascita, la cittadinanza si aggiunge al vostro status e quindi dovete conoscere quei diritti che poi vi permettono di partecipare in modo ancora più democratico perché consapevole a quella che è l'attività europea. Allora, ritornando al Solvit, e l'ho detto perché parlavo di mediatore, è una rete europea per cui se voi, faccio un esempio, andate in un altro Stato membro, vi ammalate e andate in un ospedale e per esempio viene richiesto di pagare una certa fattura all'ospedale, voi non lo dovete fare perché voi siete cittadini europei e avete diritto all'assistenza. Che cosa si fa in questi casi? Si fa una dichiarazione al Solvit, potete collegarvi al nostro sito e da lì noi cerchiamo di risolvere la questione e non farvi pagare nulla. Questo è uno dei vari diritti che riguardano voi. Comunque, ritornando alla lobby, è un'attività lecita o no? Certamente è un'attività lecita a livello europeo perché è esplicitamente prevista dai trattati. Il trattato all'articolo 11 prevede che le istituzioni europee diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione così da mantenere un dialogo aperto, trasparente, regolare con tutta la società civile e le associazioni rappresentative. Quindi, oltretutto, è un'attività lecita perché esiste un regolamento che disciplina la lobby sia a livello di Parlamento europeo che di Commissione. Il legislatore europeo, poi, ha voluto... Qual è stata l'attività che ha portato a questa regolamentazione della lobby a livello europeo? È iniziata sulla base del principio dell'ascolto dei cittadini di cui appunto vi parlavo prima. Hanno iniziato... La Commissione europea, nel 2001, ha lanciato il libro brianco sulla governance, cioè sulla possibilità per i gruppi organizzati di partecipare al processo decisionale. Successivamente, attraverso il libro verde, Iniziativa europea per la trasparenza, ha avviato una consultazione pubblica che nel 2007 ha creato il vero e proprio registro della lobby. Il registro è stato firmato con un accordo interistituzionale tra Parlamento e Commissione europea ed è stato dichiarato operativo tanto per il Parlamento che per la Commissione europea. Di conseguenza, che cosa vuol dire questo? Che a livello europeo, come in molti altri Stati membri, ma in particolare presso le istituzioni, se si vuole essere un lobbista e portare all'attenzione delle istituzioni gli interessi di gruppi organizzati, bisogna iscriversi a questo registro che consta in sostanza di tre parti. Adesso poi facciamo velocemente una sezione sulle linee guida di gestione di questo servizio, quali sono le attività ammissibili, le esenzioni, la categoria a cui è aperta la registrazione e via di seguito, una sezione che riguarda il codice di condotta, una terza sezione che riguarda eventuali meccanismi di reclamo o provvedimenti per violazione del codice di condotta. Quindi, chi vuole essere portatore di un interesse particolare a livello europeo lo può fare garantendo la massima trasparenza, seguendo un codice di condotta e che è assolutamente volontario e assoggettandosi anche alla possibilità di avere reclami o provvedimenti qualora non rispetti questo codice di condotta. Ora, noi come Dipartimento riteniamo che perché la lobby è uno strumento utile? È uno strumento inutile perché sicuramente aiuta i gruppi di interesse a far sentire la loro voce, ma aiuta anche i decisori pubblici perché di fronte a una direttiva ci possono essere gruppi di interessi contrastanti e quindi il fatto che tutti e due possano con massima trasparenza venire ascoltati dalle pubbliche amministrazioni significa che il decisore pubblico deve prendere la responsabilità di una scelta piuttosto che un'altra e quindi di ottenere un risultato per la cittadinanza e quindi per voi essere sottoposti al vostro giudizio dopo se è gestito bene o meno una determinata attività. Se questo non fosse tutelato ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile. Scusate, ho un mal di gola terribile non riesco a parlare. E la situazione in Italia qual è? Come diceva giustamente il professor Petrillo esistono molte leggi tanto per citarne alcune sicuramente la legge 659 dell'81 che voleva assicurare la trasparenza degli interessi parlamentari che però non è stata completamente applicata ci sono poi delle best practice come quelle del Ministero dell'Agricoltura di recente realizzazione oppure di alcune regioni però manca appunto un disegno organico. Allora una regolamentazione della lobby quindi per concludere sarebbe utile perché perché soprattutto per le quasi tutte le normative italiane ormai almeno l'85% sono di derivazione europea quindi quando una pubblica amministrazione va presso il Consiglio dell'Unione per decidere una determinata azione se ha sotto di sé una serie di possibilità e quindi decide con la massima trasparenza è ovvio che quella normativa una volta approvata nella fase di ricepimento è di più facile applicazione perché noi spesso incontriamo grosse difficoltà nel momento stesso in cui concludiamo una direttiva a livello europeo la dobbiamo trasporre nell'ordinamento italiano e poi la dobbiamo applicare e lì subentrano i fuochi incrociati quei fuochi che non sono stati probabilmente ascoltati prima quindi la lobby diciamo dovrebbe essere un'attività che proprio perché è fatta prima in modo organico trasparente organizzato esteso democratico aiuterebbe a far sì che quella normativa per cui noi adesso abbiamo circa 100 procedure di infrazione che ci pendono sulla testa e che ci creano molti impegni finanziari per l'Italia e quindi tasse per i cittadini e via di seguito possa essere bene applicata senza bisogno poi di dover fronteggiare una costosissima procedura di infrazione oltretutto questo lo dico penso più avanti ma comunque inoltre andando nella slide più avanti un secondo allora il cittadino in questo modo diventerebbe anche un po' quello che la legge 142 241 degli anni passati hanno e la legge anche 150 quella sui piani di comunicazione e di comunicazione cercato di mettere cioè il cittadino al centro dell'azione amministrativa ora questa questa attività che diciamo l'ordinamento ha già previsto già è stata prevista a livello europeo con la richiesta esplicita da parte delle istituzioni per ogni atto normativo di fare una valutazione dell'impatto della regolamentazione molti stati europei prima di andare avanti sulle normative ma proprio al momento in cui la commissione presenta un 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 atto normativo impostano subito una valutazione di impatto di regolamentazione che cosa significa quanto costerebbe quella normativa in termini sociali all'Italia se venisse approvata in un certo modo piuttosto che un altro quindi è un'analisi dei costi benefici che sicuramente una lobby ben strutturata potrebbe sicuramente aiutare a fare in un modo più corretto perché portando lei stessa all'attenzione di chi poi deve andare a rappresentare l'Italia all'estero quelle che sono i costi sociali di una determinata azione sicuramente potrebbe permettere una migliore legge da applicare sul territorio nazionale ora diciamo che queste queste attività sono state realizzate cioè sono state individuate l'attività di valutazione da tutta una serie di provvedimenti per esempio il regolamento del 2008 sempre sull'AIR che stabilisce infatti che tutti gli atti normativi del governo compresi gli atti adottati dai singoli ministri ai provvedimenti interministeriali ai disegni di legge dovrebbero avere questa valutazione si fa si fa però non si fa probabilmente in un modo così organico e strutturato come sarebbe giusto farla e questo per tutta una serie di ragioni costi conoscenze situazioni non completamente trasparenti e via di seguito che non mi sembra questo la sede io vi sto dando delle pillole di riflessione che poi eventualmente ciascuno di voi può approfondire e eventualmente trarre le proprie conclusioni perché l'importante è conoscerle certe cose e non essere manovrato per una cosa piuttosto che un'altra ma una conoscenza porta poi a una decisione più consapevole che è quella che tutti quanti noi ci auguriamo soprattutto per le giovani generazioni allora il come diceva il professor Petrillo anche la costituzione prevede tutta una serie la costituzione italiana prevede una serie di partecipazioni di gruppi di prozione al processo legislativo adesso non ve lo sto qui a dire ve li indico semplicemente su queste slide l'articolo 2 18 con il riconoscimento del luogo delle formazioni sociali e dei gruppi di pressione l'articolo 3 con il diritto alla partecipazione il 50 ad influenzare il direttore politico ma anche le leggi che ho citato prima cosa ha fatto il dipartimento delle politiche europee allora recentemente è stata approvata ed è ormai legge dello Stato la legge 2 3 4 che modifica la legge 1 che appunto disciplinava il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea questa legge all'articolo 7 parla proprio di valutazione complessiva del progetto ai punti conforme all'interesse nazionale e l'impatto del progetto sulle organizzazioni dell'APA e sulle attività dei cittadini e delle imprese cioè questa legge stabilisce che tutti i progetti normativi che noi analizziamo nei vari dossier che seguiamo a livello europeo debbono avere questa valutazione da parte dei gruppi di interesse da parte della pubblica amministrazione che dovrebbero lavorare in sinergia la eh oddio allora le conseguenze quindi positive è come ho detto prima una maggiore conoscenza e permeabilità da parte della cittadinanza di quelli che sono i progetti e i processi di regolamentazione pubblica da parte dei rappresentanti delle istituzioni invece sono esattamente la 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 conoscenza obiettiva trasparente dei nostri interlocutori perché tornando e concludendo perché la lobby non è mai stata attuata allora perché non c'è questo disegno organico io la risposta non ve la so dare quindi vi auguro solamente una buona riflessione grazie grazie dottore Savilla penso che tutti quelli che diciamo così vedevano un po' l'attività di lobbying come l'organizzazione di cene ed eventi e chiacchiericci da dietro le quinte si hanno un po' cominciando a cambiare idea come abbiamo visto ci sono molte leggi ma un'attività estremamente tecnica no non perdo altro tempo perché il nostro prossimo illustrissimo ospite il dottor Lucchini ha degli impegni quindi si potrà intrattenere giusto per pochissimi minuti una brevissima introduzione però è doverosa è stato il dottor Lucchini dopo una rilevantissima esperienza all'estero presso la Montedison è stato direttore delle relazioni esterne di Confindustria nel 2002 direttore delle relazioni esterne del gruppo Banca Intesa nel 2005 direttore delle relazioni istituzionali e comunicazioni Eni e da luglio 2005 direttore delle relazioni internazionali e comunicazione dell'Eni nonché chairman dell'Eni Stati Uniti quindi dottore prego intanto complimenti per l'iniziativa e bene ottimo l'intervento della dottoressa Villa e naturalmente il professor Pedrillo io volevo farvi vedere una cosa così capiamo che cos'era la lobby prima e che cos'è la lobby adesso magari ma poi chi ci spiegherà veramente come funziona il tutto sarà il professor Velardi che è l'unico che sa come funzionano queste cose perché nel frattempo la lobby è morta ma questo ve lo diremo fra poco ecco io volevo far partire un piccolo contributo che sicuramente vi rimarrà familiare possiamo abbassare la luce volume alto se ogni repubblicano alla Camera votasse sì cosa non garantita visto che il nostro partito non ha mai sostenuto la maggiorità niente ma anche se tutti i nostri repubblicani lo votassero non so se si sente ci mancherebbero comunque 20 voti solo 20 solo 20 possiamo trovarli 20 voti 20 democratici della Camera che votino per abolire la schiavitù secondo la mia opinione come sempre do ascolto o fingete di dar con tutte e tre le mie orecchie vinceremo la guerra presto si sente è inevitabile no ebbene non è vinta ancora inizierete il secondo mandato con una statura semidivina immaginate le possibilità che la pace può portare perché offuscare il vostro inestimabile lustro con una battaglia alla Camera lì a un vespaio è la stessa banda di inetti di folchi senza talento che ha respinto l'emendamento dieci mesi fa perderemo mi piacciono le probabilità che ho adesso abbiamo una stensione già ecco Greilor qui possiamo interrompere credo ecco come avete visto praticamente sono i temi di oggi nel senso che poi di queste cose ce ne parlerà meglio Claudio Velardi magari ci racconta un po' quello che sta succedendo no 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 grazie diciamo la lobby la lobby è diciamo forse la situazione migliore di lobby è quella che ha data a un certo punto aveva data a un certo punto John Kennedy il presidente degli Stati Uniti quando lui dice il lobbista è la persona che in tre minuti mi fa capire qual è il tema di cui mi vuole parlare è quello per cui gli altri in genere ci mettono vagonate di settimane o di libri o di documenti e quindi senz'altro riuscire ad avere un po' il senso della sintesi è qualcosa è qualcosa di estremamente importante io vi voglio lasciare con un messaggio che nel frattempo questi ritardi che ha detto la professoressa Villa e il professor Petrillo in effetti si sentono e si sentono fortemente perché nel frattempo vanno avanti altre leggi e per esempio c'è la legge sull'anticorruzione benvenuta naturalmente c'è la legge sul traffico di influenza benvenuta lo stesso ma il tutto se non abbinato a una forte importante legge sull'organizzazione di quella che è il traffico cioè la rappresentanza probabilmente questo sarà un vero e proprio problema la domanda la lascio al professor Petrillo quando chiuderà questa sessione di lavori ma la cosa a cui tenevo di più è diciamo lasciarvi con un piccolo messaggio una piccola una piccola goccia che poi Claudio ci esporrà meglio però come al solito noi abbiamo circa 150 anni di ritardo in genere sono un po' meno però in genere sono 50 anni qui siamo riusciti ad avere un record di ritardi perché pur avendo centinaia di piccole leggine e pur avendo avuto uno sforzo importante al ministero dell'agricoltura però obiettivamente uno sforzo focalizzato al ministero dell'agricoltura allora se uno al ministero dell'agricoltura invece va nell'altro ministero e poi si parla al ministero dell'agricoltura probabilmente si supera anche il problema di avere una regolamentazione e poi immagino che cosa significa regolamentare fino ad arrivare ad avere i tot minuti allora io sono sicuro che alcune persone dovranno rinunciare al caffè perché il più delle volte il più delle volte si finisce al ristorante non sembra ma in effetti il ristorante ancora rimane un qualcosa dove si riesce a parlare a discutere negli Stati Uniti ci sono dei ristoranti straordinari se voi andate a Washington ci sono dei posti dove addirittura ci sono le scellette con dentro il vino preferito di quel determinato lobbista fra virgolette ma lobbista iscritto allora in effetti se quando si siede poi deve girare come una partita di scacchi la clessitra probabilmente questo qui sarebbe un grosso problema non credo che sia una buona idea quella della regolamentazione a minuti anche per qui andremo avanti fino alle 11 di sera se no a parlare perché io mi ruberei il tempo che ha usato il professor Petrillo nel suo autorevolissimo intervento e quindi di conseguenza i ragazzi poi non potrebbero fare domande allora l'altra cosa invece che mi faceva piacere parlarvi è che la lobby è sempre esistita di fatto perché anche ai tempi diciamo preistorici ai tempi dei romanici è sempre stata un mix tra quello che è il traffico diciamo non lecito non trasparente e quello di una regolamentazione allora chiaramente sempre di più si deve andare avanti sulla regolamentazione l'auspicio è che in Italia così come in altri paesi così come c'è illustrato bene la dottoressa Villa succede in Europa proprio partendo da quella definizione che ci ha dato si riesca ad avere anche una cosa di questo tipo prima di lasciare la parola a Claudio che sicuramente ci illuminerà su quello che ci aspetta e che forse è una cosa che ci interessa di più e tanto la legge sulle lobby continuerà a non passare e non c'è speranza credo Pierluigi no? no non lo so se avete qualche speranza no non c'è speranza quindi stiamo perdendo un po' no no ma stiamo perdendo stiamo perdendo tutti un po' tempo in effetti anche perché nel frattempo è passata il traffico di influenze e quindi obiettivamente il tutto si fa un po' più complicato e quindi niente non pensate che quando andrete in Parlamento ci sarà qualcuno che vi gira la classidra perché questo non succede non so se il dottor Rossi è d'accordo ma più o meno finirà così allora quello che invece sarebbe importante è vedere come si è evoluta nella lobby però io vi lascio con un altro piccolo filmatino che è quello di un film simpatico che sicuramente avrete visto e che dura molto molto poco thank you for not smoking ti prego non rovinarmi l'infanzia dai puoi fidarti di me questo piccolo contributo che in effetti da Lincoln a quello che è oggi in effetti la lobby negli Stati Uniti dai puoi fidarti di me e tu che cosa fai? vediamo chi di voi vuole diventare avvocato da grande? bene e invece star del cinema? oh e chi vuole fare il lobbista? e che cosa? è un po' come una star del cinema il mio lavoro io parlo per vivere e di che cosa parla? parlo a favore delle sigarette mia mamma prima fumava dice che le sigarette uccidono sul serio? ma la tua mamma è medico? no fa ricerca scientifica magari? no allora non si può dire che sia un esperta credibile ti pare? non ti vergognare è giusto ascoltare la mamma bisogna ascoltarli i genitori Joy io voglio solo farvi notare che ci sarà sempre qualcuno che vorrà dirvi cosa fare e cosa pensare probabilmente lo stanno già facendo hai indovinato? sì io sono qui per dire che quando qualcuno si comporta come una specie di esperto voi potete rispondere ma chi l'ha detto? quindi le sigarette fanno bene? no non è questo il concetto il punto è che dovete pensare con la vostra testa dovete sfidare l'autorità se i genitori vi dicessero che la cioccolata è pericolosa vi fidereste ciecamente? no ma certo quindi magari invece di reagire come pecore quando si parla di sigarette dovreste verificare da soli molto bene grazie signor Neilor di essere stato con noi grazie possiamo interrompere io vi ringrazio faccio i complimenti veramente per questa cultura democratica perché serve serve obiettivamente non solo il tema della cultura democratica ma serve sicuramente formare i ragazzi io rimango ancora in silenzio in religioso silenzio grazie ad ascoltare Claudio Velardi che ha veramente delle cose interessanti da farci vedere se è quello che ho capito grazie la regia quanto tempo ho? così fa il bravo lobbista il bravo lobbista dice quanto tempo devo parlare ed si regola di conseguenza perché io ho preparato come vedete diciamo una cosa che attualizza un po' i problemi nel senso che io sono costretto per il lavoro che faccio a fare come ad agire come se le cose che ci dicevano prima Petrillo e Villa siano come dire agite siano nelle cose siano effettive non lo sono quindi diciamo le condizioni in cui noi lavoriamo sono molto difficili e in mancanza appunto di una legislazione chiara delle norme che consentano effettivamente di svolgere in piena efficienza questo lavoro bisogna fare ricorso semplicemente diciamo al uso una parola un po' grossa ma serve ci vuole diciamo alla propria etica e quindi diciamo alla capacità che ognuno di noi ha o non ha di fare le cose nella maniera più lecita di questo mondo e tenetelo a mente questo punto perché naturalmente se ci fossero invece delle norme più chiare lungo le quali fare scorrere tutte quante le nostre attività tutto sarebbe più semplice invece noi ci muoviamo appunto in un panorama di grande confusione peraltro in questo panorama concreto diciamo di grande confusione noi passiamo dal lobbista di thank you for smoking a quel signore là ragazzi naturalmente qui non parliamo non diamo giudizi è tecnica pura diciamo non stiamo a fare considerazioni diciamo più o meno simpatizzanti o antipatizzanti però la novità rappresentata dalla irruzione in Parlamento di una ampia fetta di parlamentari che si ispirano a Beppe Grillo è una novità grande nell'attività che noi andiamo a svolgere diciamo di qui alle prossime settimane e non si sa manco per quanto tempo perché non sappiamo quanto durerà questo Parlamento che abbiamo eletto e allora io ci ho riflettuto in queste ore perché il mio carissimo amico Stefano Lucchini mi ha coinvolto ieri sera diciamo in questa splendida iniziativa a cui sono contento di partecipare e in queste ore mi sono messo un po' a pensare beh ma come farò concretamente il lobbista con il nuovo Parlamento e così ho svolto qualche riflessione poi stamattina premessa mi sono capitate due cose ma davvero divertenti che mi hanno ulteriormente diciamo convinto della necessità di ragionare in maniera totalmente nuova rispetto al passato la prima è questa ho letto da qualche parte in rete che ci sono 18.000 domande di aspiranti assistenti parlamentari che sono partiti online nei confronti di Beppe Grillo 18.000 domande adesso non so poi quante diventeranno è una cosa pazzesca naturalmente ora questi signori dovranno trovare delle regole dei principi per poi per fare le loro scelte perché naturalmente quando tu ti impegni in una colossale azione di trasparenza di democrazia e così via poi devi tenere botta cioè devi dare seguito a quello che affermi e già questa è una prima cosa simpatica perché invece voi sapete che i criteri di reclutamento diciamo di tutto il personale degli staff degli assistenti parlamentari e così via finora è stato condotto all'insegna diciamo della più della più assoluta privativa diciamo cioè delle determinazioni che poi ogni singolo gruppo parlamentare o ogni singolo parlamentare prendeva e vedremo se a questa novità colossale si darà seguito a che cosa porterà questa novità se ci sarà perché nel funzionamento concreto voi dovete sapere che poi gli apparati le tecnostrutture contano molto spesso più di quanto non contino i parlamentari o i ministri o i sottosegretari la seconda cosa è veramente questa molto divertente a proposito di come cambia con la rete anche tutta quanta la dimensione legislativa e così via abbiamo fatto una chiacchierata stamattina in uno di questi nostri caffè con che sono delle conversazioni settimanali che facciamo con protagonisti della politica dell'industria delle istituzioni una chiacchierata con Maurizio Decino che è membro dell'autority per le telecomunicazioni che ci ha raccontato questa cosa fantastica non so se voi avete visto in campagna elettorale a un certo punto negli ultimi 15 giorni quando era vietata la pubblicazione dei sondaggi una società di sondaggi SVG si è inventata un'app per diffondere i sondaggi naturalmente ha fatto richiesta di questo all'autority delle telecomunicazioni e lì hanno trovato un funzionario che gli ha detto di sì perché si poteva fare perché ha detto di sì perché questo funzionario scartabellando in tutte quante le leggi ha detto va bene ma siccome si occupa l'autority delle comunicazioni solo del broadcasting cioè solo della diffusione ha detto vabbè ma questa è una roba che va al singolo individuo e quindi è una roba che si può fare naturalmente il fatto che però poi l'app possa essere acquistata da 20 milioni diciamo di cittadini e quindi stravolgere una legge che lasciamo perdere se giusta o sbagliata a me non piace però c'è questo non era stato calcolato dal povero funzionario che faceva i conti con le sue polverose norme e quindi ha dato il via libera a questa app dopodiché naturalmente sono dovuti tornare indietro perché sarebbe entrata clamorosamente in contrasto con una legge esistente che è quella che viene dalla diffusione dei sondaggi allora è un piccolo esempio però per dire di come noi abbiamo tutta quanta una legislazione delle norme delle procedure eccetera che non sono assolutamente adeguate ad affrontare la realtà che stiamo vivendo e che una realtà ma si usiamo la parola perché poi non è che è una parola sia un particolare rivoluzionaria cioè che ci sta cambiando tutto sotto i piedi e non sappiamo ancora bene dove andare naturalmente se avessimo anche nel nostro piccolo qualche normicina sulle lobby andrebbe meglio ma comunque non ce l'abbiamo e ne faremo a meno allora il giochino qual è? in qualcuna delle nostre cose ho fatto sto giochetto dei chakra del lobbista io qui appunto non vi parlo di norme di leggi eccetera vi parlo di che cosa di chi è il lobbista e come si fa a fare bene il lobbista farlo bene insomma farlo nella maniera giusta e siccome per spiegare le cose è bene che il lobbista individui chiaramente delle cose che poi magari si ricordino pure mi inventai sta roba dei chakra del lobbista e non la faccio la faccio breve naturalmente la testa che serve naturalmente ad avere un quadro chiaro degli scenari delle norme ad avere bene a mente naturalmente la deontologia professionale importante quindi la preparazione tecnica le competenze di cui il lobbista deve essere dotato gli occhi che significa osservare con una curiosità vorace e con metodo il mondo esterno il lobbista deve essere uno scusate io faccio anche un po' di propaganda è consentito diciamo il lobbista deve essere uno ferocemente curioso di quello che accade nel mondo lo deve sapere lo deve sapere prima e meglio degli altri perché nel momento in cui nell'impatto che poi ha con l'interlocutore quell'informazione in più che ha è sempre preziosa anche quando riguarda campi non direttamente diciamo di pertinenza dell'incontro che si sta che si sta per fare vabbè vabbè non ve li racconto altri aneddoti altrimenti veramente sforiamo ma per dire insomma non molto tempo fa è davvero capitata che davvero capitato che stavo per chiudere un contratto con un professorone un barone universitario di una fondazione medica che non conoscevo che incontrai e capì diciamo subito insomma dopo poco che c'era diffidenza da parte sua non so perché nei confronti appunto proprio di chi fa questa professione non so per quale motivo poi a un certo punto lui mi disse mi parlò di una iniziativa che stava per prendere nel ristorante a proposito a Milano dove ci stavamo vedendo perché c'era un pianoforte dice ma lei sa che io qui ogni 15 giorni c'è un ciclo di concerti perché in verità la mia grande passione è la musica mi disse sto professore ma il caso la fortuna volle che anche la mia vera grande passione è la musica per cui finì che in questo pranzo noi parlamo per un'ora di musica delle nostre passioni ci scambiamo opinioni tutto poi mail e tutto il resto appresso e alla fine parlamo del contratto ma poi il contratto l'abbiamo fatto non so come dire ma questo per dire no che senza nessuna strumentalità intendiamoci ma semplicemente perché il lobbista entra in relazione con altre persone perché questo è quello che succede poi in questa nostra povera e derelitta umanità ogni mattina ci svegliamo e entriamo in relazione con altre persone e se tu quindi se il tuo bagaglio di informazioni la tua ricchezza diciamo umana è grande naturalmente il tuo impatto con chi ti sta di fronte tendenzialmente sarà più positivo e perché questo avvenga perché questa osservazione si traduca concretamente in realtà naturalmente è la bocca quella che conta molto perché bisogna abituarsi educare e abituarsi al dialogo dialogare sempre interloquire dialogando non pensare mai di avere un punto di vista assoluto che non è ma invece assumere appunto il criterio base del dialogo con l'interlocutore come quello decisivo poi vedremo a che cosa ci serve questa caratteristica naturalmente ci vuole cuore e questo lo accennavo già prima perché nel momento in cui tu entri in relazione con un interlocutore avendo una massa di informazioni e una ricchezza informativa da dare al tuo interlocutore e che dai attraverso il dialogo ovviamente entra in ballo una relazione umana tra te e il tuo interlocutore e in qualche modo è qualcosa che va al di là delle tue attività professionali dell'oggetto del tuo interesse dell'azione che stai svolgendo ma mette in campo appunto una relazione più ricca con l'interlocutore naturalmente il lobbista poi deve sapere che in ogni sua azione quello che è sempre in agguato sono sempre in agguato i rischi le criticità le crisi anche perché generalmente anzi non ci si rivolge a un lobbista se non c'è una criticità spesso le aziende le associazioni si rivolgono perché sono stupide si rivolgono al lobbista nel momento dell'emergenza e ti dicono questa questione la dobbiamo affrontare domani e uno naturalmente gli dice tu sei uno stupido perché se fossi venuto qui un mese fa avremmo potuto preparare l'azione attraverso poi un'attività di cui a un momento parlerò e però appunto il lobbista invece deve essere pronto ad affrontare queste criticità queste situazioni difficili diciamo questi rischi che vengono a crearsi durante la sua azione e questo avviene sempre molto costantemente naturalmente ovviamente ha bisogno delle mani lì dove per mani intendiamo gli strumenti per l'azione qui non mi dilungo però guardate la professionalità dei ragazzi che lavorano con noi e dei tanti piccoli lobbisti che stanno crescendo è fatta di capacità di monitoraggio della rete di monitoraggio degli atti parlamentari di tempestività nell'individuare quello che sta succedendo in Parlamento di capacità di scriverle le leggi che i nostri parlamentari non sanno scrivere un po' per inesperienza e per tanti altri motivi che non è il caso qui di indagare e quindi ci vogliono strumenti competenze e conoscenze forti per poter fare questo mestiere infine naturalmente le gambe insomma adesso abbiamo detto le gambe ma per dare a intendere come poi c'è bisogno di strategie che camminino possibilmente sul medio lungo periodo perché è solo sul medio lungo periodo che si realizzano dei risultati e questo grosso modo detto proprio volando come dire è come il nostro mestiere va fatto proviamo invece un attimo a vedere questi animali strani che adesso stiamo incontrando io non ripeto magari che ne so tanti di voi li hanno votati ma va benissimo però quello che voglio dire è che sono è un fenomeno politico sconosciuto al sistema ok e il sistema lo deve affrontare appunto trovandosi di fronte a dei modi di pensare a dei modi di essere che sono molto diversi rispetto a quelli noti a quelli conosciuti la testa c'è una forte dipendenza dal leader io adesso sto prendendo come dire l'idealtipo dell'esponente grillino facciamo del neoparlamentare grillino ok che mi troverò a incontrare di qui a una settimana o a 15 giorni no aspetta che ci arriviamo arriviamo perché ci arriviamo si può immaginare allora diciamo meglio i pregiudizi va bene che noi possiamo abbiamo accumulato abbiamo nella nostra testa sui grillini forte dipendenza dal leader naturalmente a vedere la stampa i media e così via si manifesta ancora una discrazia quantomeno tra gli editti diciamo del leader poi i comportamenti che non sono ancora calibrati e sono cose che come dirò va tenuto fortemente presente questo elemento si può immaginare sempre a proposito dell'obiezione di Petrino si può immaginare che abbiano delle posizioni ideologiche o pregiudiziali perché è così che il sistema guarda guarda i grillini si può immaginare la bocca che diciamo a proposito della bocca non c'è dubbio che usino un linguaggio ma forse manco questo è vero però anche vengono interpretati spesso come persone che hanno un linguaggio aggressivo che vivano l'impegno politico come una sorta di missione purificatrice per cui anche le cose diciamo la passione che loro mettono in questo impegno è totalizzante diciamo così allo stato delle cose quantomeno l'attacco che gli si rivolge è che hanno un approccio populista cosiddetto con le cose quindi puntino più alla pancia che non alla ragione che abbiano a proposito delle mani una scarsa competenza tecnica e politica e per quanto riguarda le gambe che abbiano come è evidente come è chiaro a tutti quanti noi una grande capacità di mobilitazione del proprio elettorato allora io mi sono fatto questo schema di massimo anche rozzo perché appunto non li conosco è un fenomeno allo stato nascente è un fenomeno che probabilmente non ha neppure ancora piena consapevolezza di sé quindi figuriamoci come li possiamo conoscere diciamo noi insomma questo è un po' il quadro che si fa e allora utilizzo un altro per capirli un po' meglio questi grillini noi utilizziamo noi comunicatori piccola parentesi per me a proposito anche di tutte quante le definizioni citavano prima la lobbying non è altro che un aspetto una branca specialistica della comunicazione come poi è l'Unione Europea che dà la definizione migliore diciamo del nostro mestiere quindi io poi spesso come dire addirittura i termini li utilizzo in maniera insomma li alterno senza particolari problemi in comunicazione noi per esempio usiamo questo questo schema che qui ho rovesciato perché quando dobbiamo mettere a fuoco un profilo da comunicare si tratti di un politico o di un'azienda o di quello che volete abbiamo questo schema doppio per cui prendiamo gli estremi se la caratteristica di una persona è quella di essere per esempio una persona mite il buono diciamo del mite è quello appunto di essere disponibile eccetera il cattivo è quello di essere debole vi è chiaro lo schema che usiamo allora qui ho usato lo stesso schema mettendo un poco gli estremi su cui è possibile diciamo fare scorrere diciamo l'ideologia del grillino medio e poi bisognerà collocare in quello spazio bianco un profilo che gli si attagli e che sia possibilmente diciamo quello che sta in equilibrio tra i due estremi quindi tra il pragmatico e l'ideologico perché non c'è dubbio che i grillini hanno spesso entrambe le caratteristiche insieme perché possono essere ideologici e pregiudiziali in alcune cose che sostengono ma sono anche molto molto pragmatici come sostengono diciamo quotidianamente nelle cose che fanno e anche quando per esempio cominciano a gestire la cosa pubblica come nel caso di qualche amministrazione locale insieme integrati e apocalittici perché una dimensione apocalittica nelle cose che dicono spesso c'è sta pure quello che ha detto che abbiamo il chip già messo sotto pelle che quindi tutto quello che facciamo è già deciso non so dove però nello stesso tempo diciamo che ci sia un'integrazione dato dal fatto che hanno preso signore e signori il 25% dei voti quindi più integrati di loro vuol dire che sono un quarto della popolazione italiana sono indipendenti o eterodiretti ecco eterodiretti se pensiamo all'immagine di prima cioè c'è Grillo c'è Casaleggio eccetera ma dobbiamo misurare il loro tasso di indipendenza e di autonomia sono politici o sono antipolitici sono nati e tutti quanti hanno detto aiuto ecco sta arrivando l'antipolitica adesso che sono il 25% degli italiani e hanno 100 e passa parlamentari non si possono più obiettivamente definire tali hanno esperienza non ne hanno non ne hanno in linea di massima però è anche vero che l'esperienza poi si fa diciamo e le competenze crescono nel fuoco delle cose che si fanno allora questo ve l'ho fatto vedere perché proprio è uno schemetto diciamo di teorico come dire che noi usiamo poi per cercare di mettere a fuoco gli obiettivi di lavoro che abbiamo scusate è una cosa anche un po' scolastica che volevo che però ha la sua efficacia per mettere a fuoco una persona il profilo di un uomo politico eccetera eccetera allora che cosa facciamo quando dobbiamo incontrare il grillino allora la prima cosa è che chiediamo un appuntamento naturalmente e dobbiamo presentarci al grillino posto del polo dobbiamo avere l'appuntamento che non è una cosa semplice va bene dobbiamo via web per esempio dobbiamo fare i conti con i loro possibili pregiudizi nei confronti del lobbyista e quindi dobbiamo cercare di smontarli per farlo dobbiamo motivare la richiesta nella maniera più chiara e trasparente ed evidente a girare tutte quante le possibili obiezioni e anche negoziare le condizioni voi avete visto che cosa è successo già oggi che hanno fatto l'incontro con i tre quelli che fanno il peacekeeping lì come si chiamano i mediatori del PD che hanno fatto l'incontro loro che ne so insomma non so come chiamano mediatori ma non mi pare una bella una bella espressione e loro hanno detto prima sì ci vediamo però facciamo tutto in diretta quindi filmiamo l'incontro poi hanno deciso insomma evidentemente il PD che c'ha doveva avere qualche detto no meglio non filmare l'incontro loro hanno detto ok però poi all'incontro li sono presentati in 12 e poi adesso proprio in queste ore lo stanno mettendo il video che interpreta dal loro punto di vista l'incontro quindi una roba complicata se questo succede con il principale partito italiano figuriamoci con un lobbista diciamo così allora che cosa deve fare il lobbista anzi non che cosa deve fare che cosa deve essere il problema non è fare che cosa deve essere come deve essere davvero un lobbista non deve essere idosa non deve essere ideologicamente di parte non deve intendere l'obiettivo che è quello di portare avanti l'interesse diciamo di chi gli dà il mandato di farlo io poi parentesi io non è che sono una lobby io sono un lobbista cioè io vengo pagato dalle aziende per portare avanti i loro interessi no questo va bene vi è chiaro diciamo non rappresento una lobby solo uno che fa di mestiere il lobbista non intendere quindi l'obiettivo di cui sei portatore in chiave conflittuale in chiave militare non avere mai un approccio win-lose cioè c'è chi vince e c'è chi perde ma viceversa mostrare sempre una grande passione un grande rispetto per la politica avere delle doti empatiche relazionali ragazzi su questo si può anche un po' scherzarci su perché delle volte sembrano delle cose un po' leggerine un po' fesse queste ma non è così perché appunto perché siamo esseri umani quindi riuscire a entrare in rapporto ed essere veramente interessati all'interlocutore è una cosa importante è una cosa che fa piacere a tutti di qualunque cosa parliamo con chiunque noi abbiamo a che fare bisogna possedere una propensione a educare ma con rispetto a educare nel senso di a portare avanti i propri obiettivi i propri argomenti rispettando le posizioni altrui e conclusivamente avere l'approccio win-win il lobbista vince quando riesce a dimostrare che l'interesse di cui è portatore certo conviene diciamo al portatore di interesse ma conviene alla collettività e quella è la chiave e per fare questo bisogna sapere le cose bisogna conoscerle bisogna studiarle posto che abbiamo incontrato il lobbista che siamo riusciti a incontrarlo gli presentiamo la nostra posizione lo facciamo in maniera semplice chiara e trasparente facciamo emergere l'utilità generale dell'interesse particolare di cui siamo portatori rispondiamo alle obiezioni con il dialogo cerchiamo di creare un clima di fiducia come dire sembrano banalità però quante volte io ho visto diciamo adesso se ne è andato Stefano che è un santo diciamo così ma in particolare nel mondo delle grandi aziende le grandi aziende hanno un approccio imperialistico con le istituzioni con i partiti con i parlamentari e sono spesso odiate spesso nelle istituzioni poi magari si fa anche quello che dicono le grandi aziende ma perché hanno il peso militare dalla loro parte ma non perché convincano degli interessi di cui sono portatori mentre invece avere un'educazione alla lobbying significa appunto comportarsi anche esporre le cose in maniera trasparente comportarsi in maniera dialogante e cercare di costruire questo clima di fiducia mentre invece agire in maniera corporativa oppure esibire la propria forza muscolare i propri clienti le proprie referenze porsi in atteggiamento di superiorità intellettuale che non fa mai bene nei confronti di nessuno in particolare naturalmente nei confronti di neofiti cioè di persone che adesso sono arrivate e sono alle prime esperienze e che quindi vedrebbero certamente non bene diciamo un approccio di questo genere invece appunto bisogna agire in quest'ottica di sistema rendere trasparenti attenzione i pro e i contro delle proprie proposte uno dice ma come sei matto no perché è evidente che una proposta che come dire serve un interesse particolare avvantaggerà qualcuno e svantaggerà qualcun altro questo lo sa chiunque lo capisce il nostro interlocutore lo capisce anche se è arrivato in Parlamento ieri allora tanto vale dirglielo e naturalmente fare come dire leva sul fatto che i vantaggi possano fare come dire possano essere maggiori rispetto agli svantaggi terza fase dove sta la terza fase terza fase chiudere l'incontro finalmente dopo tutta sta fatica cioè un faticosissimo incontro con il con il grillino bisogna far emergere da subito i risvolti positivi dell'incontro se ce ne sono stati sperabilmente concedendo qui dico un benefit informativo all'interlocutore cioè tu interlocutore che mi sei stato assenti hai capito le nostre ragioni eccetera io adesso ti inondo no non ti inondo perché i documenti devono essere brevi non tanto materiale però io ti concedo diciamo questo benefit informativo definiamo insieme un'ipotesi progettuale su cui si ritiene possibile lavorare e naturalmente ci si riserva poi l'approfondimento la verifica delle posizioni che dovessero emergere delle posizioni contrarie mentre quindi si producono delle informazioni si fanno circolare le informazioni si sa fare network fare circolare le informazioni e qui c'è un altro luogo comune che riguarda i lobby i lobbysti fessi sono quelli che si tengono per sé le informazioni sono fessi e sono deboli perché pensateci questo vale per ognuno di noi nella vita se noi siamo gelosi delle nostre informazioni e non siamo disposti a darle a tutti a tutti quanti vuol dire che ci sentiamo deboli di nostro quando ne siamo gelosi è perché evidentemente temiamo che poi queste informazioni siano utilizzate da qualcun altro e che quindi questo qualcun altro ci scavalchi mentre invece se siamo forti le nostre informazioni le diamo costruiamo un network che non ha privative di sorta non ci sono delle agendine chiuse in cui i miei numeri di telefono io li do a tutti tanto in cuor mio penso sempre di essere più bravo degli altri e di averne uno in più domani perché naturalmente vale questo se invece tu ti senti debole allora a quel punto assumi un atteggiamento di privativa di gelosia di chiusura che naturalmente non fa altro che aumentare la percezione della debolezza nel tuo interlocutore mentre invece quello che non bisogna fare appunto è rendere escludente le relazioni e gettare discredito sugli interessi avversi o addirittura fare i gossip come spesso si fa ultime due cose per dire allora in sintesi sto facendo l'un ma adesso le ultime due in sintesi mentre ecco abbiamo fatto questo incontro questo faticoso incontro col grillino è andata come è andata abbiamo cercato di conoscere un personaggio diciamo nuovo del panorama politico italiano vediamo lì grillo un po' dubbioso perché insomma l'incontro c'è stato non si capisce bene come è andato mentre prima era minaccioso qua sono un atteggiamento un po' più positivo nella sostanza qual è la differenza tra il vecchio modo di fare lobbying e un po' il modo di fare lobbying nuovo che più o meno vi ho vi ho accennato la differenza è questa qua nel lobbying 1.0 l'abbiamo definito perché ora si dice sempre così 1.0 2.0 sempre su questi numeri io prima ho detto terza repubblica ma avete detto quarto potere qui insomma non lasciamo vedere i numeri si usano così lobbying 1.0 mira ad influenzare la legislazione ok in forme e modi piuttosto tradizionali si basa su una relazione one to one con la persona giusta e spesso non si individua neppure qual è la persona giusta perché l'ambizione del solito cliente fesso sappiate quanti ce ne sono è quella dobbiamo parlare col ministro ma che ci parli a fare questo ministro a che cosa serve cioè se tu hai un rapporto con il capo di gabinetto con gli uffici legislativi dei ministeri o ragazzi miei anche con le segretarie particolari diciamo che naturalmente svolgono la funzione di quelli che ci hanno tutto nelle mani non solo l'agenda del ministro ma anche delle volte delle decisioni diciamo da prendere è tutta un'altra roba punta la vecchia lobbying cerca di creare delle coalition building questo nel migliore dei casi perché generalmente i vecchi lobbisti procedono in ordine sparso uno contro l'altro tutto al più a volte creano delle coalizioni tra di loro ma naturalmente la vecchia lobbying poi rifugge la trasparenza perché se bisogna fare lobbying così tu devi fare delle campagne rivolte semplicemente ad influenzare i decision makers magari le fai nella maniera più squallida comprando di paginate di giornali perché questo succede in larga misura nel vecchio modo di fare lobbying che cos'è invece la lobbying diciamo 2.0 sempre per usare espressioni trite e ritrite allora intanto utilizza tools per influenzare la legislazione cioè ha degli strumenti competenze tecniche quindi va armato diciamo di competenze vere all'incontro con il legislatore propone modifiche ai testi di legge che siano naturalmente realistiche compatibili che abbiano un senso non delle cose che siano campate in aria stabilisce il contatto diretto e immediato con gli stakeholders senza mediazioni senza coperture il contatto deve essere appunto diretto immediato trasparente e deve creare poi quel circuito anche di empatia che dicevamo influenza il policy making attraverso movimenti di base qui stiamo parlando ma in senso stretto del signor Beppe Grillo che non ha fatto altro quello che in America si fa da decenni che il grassroots lobbying cioè che il lavorare diciamo alle radici ben prima diciamo di raggiungere l'obiettivo di lavorare per lungo tempo alle radici costruendo un clima di opinione favorevole alle proprie ai propri obiettivi ok se tu fai questo come dire hai già vinto hai già vinto perché poi il percorso diventa tutto quanto in discesa se invece sei costretto a fare tutto negli ultimi giorni perché domani c'è da correggere una legge c'è da preparare un emendamento naturalmente il lavoro è assolutamente in salita se hai qualche esempio magari concreto di grassroots lobbying sto per andare via magari in Italia ripeto quello di Beppe Grillo Beppe Grillo che ha fatto Beppe Grillo è nato naturalmente lo possiamo fare per le aziende ma guardate che l'esempio di Beppe Grillo è incredibile cioè lui arriva oggi al 25% quando ha preso lui è nato nel una decina d'anni fa facendo un lavoro in rete di cui praticamente nessuno sapeva niente se non quelli che progressivamente aggregava dichiarava i suoi obiettivi si mobilitava ma nessuno capiva che cosa stava per succedere a un certo punto è circolato in rete in questi giorni una cosa divertente dell'allora segretario dei DS Fassino parliamo del 2008 2009 cioè non di tantissimi no 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 forse forse 2008 2009 che dice beh allora se Beppe Grillo dicesse cose facesse un partito ammazza l'ha fatto ragazzi e lo stava facendo questo è il lavoro alle radici come dire vi potrei fare esempi adesso vi faccio un esempio no faccio un esempio colossale vabbè ma questo ve lo dico da uomo schierato non da non da lobbista schierato perché il nucleare più o meno in Italia è morto e non se ne parlerà più io sono un nuclearista cioè io sono convinto che non c'è nessuna forma di approvvigionamento energetico che sia più sicura più salubre eccetera eccetera del nucleare vabbè poi ne discuteremo non stiamo a dire se mo' questa cosa è giusta o no ma vi convincerei se facciamo un'altra vi convinco vabbè vabbè non ne parliamo ma se noi volessi allora io sono un nuclearista se volessi io rilanciare la strategia del nucleare che faccio faccio un articolo domani su un giornale e dico brutti fedenti non avete voluto il nucleare non serve a niente bisogna lavorare molto molto in profondità perché l'idea che invece il nucleare sia all'origine di tutti i nali e sia la forma più più devastante diciamo di pericolo di rischio che ci sia per l'umanità è oramai penetrata in tutti quanti allora se io voglio combattere la mia battaglia per il nucleare devo dire a quelli che mi danno il lavoro c'è un'agenzia per il nucleare in Italia diretta da un caro amico poveraccio non batte chiodo perché naturalmente nessuno lo sta a sentire uno dovrebbe dirgli bene allora ci mettiamo qua poi ne riparliamo tra dieci anni e nei prossimi dieci anni cominciamo mettiamo in piedi una strategia che piano piano con le azioni le più indirette le più lontane possibili dall'obiettivo cominciano a costruire una coscienza diciamo così pronucleare chiaro questo è un po' il concetto naturalmente questo ho fatto un esempio estremo ma vale diciamo il grosso delle nostre attività qui torno alla cosa che dicevo prima le aziende vengono da me sull'emergenza e mi dicono mi devi risolvere questo problema domani se quando le aziende vengono da me e dicono guarda abbiamo un problema da qui a un anno io respiro nel senso che so che posso impostare un lavoro strategico per cui arrivo indirettamente all'obiettivo attraverso un lavoro sulla opinione diciamo pubblica che è quello poi più difficile da costruire per il quale ci vuole più tempo ma che è anche quello che ti dà i migliori risultati perché quando tu poi hai convinto una persona della bontà di una causa ma non così ma perché appunto l'hai convinto con il dialogo con la riflessione comune quella convinzione resta se invece è semplicemente una sorta di imposizione che tu fai naturalmente il cittadino potrà dirti pure sì vabbè stavolta ci sto però poi il giorno dopo cambia di nuovo idea quindi questo è un punto cruciale naturalmente il bravo lobbista 2.0 alimenta lo scambio di idee innovative perché scusate io però poi veramente ho finito però anche su questo mi voglio fermare un attimo perché è molto importante il lobbista non è semplicemente il tecnico che sa fare bene il suo mestiere il lobbista bravo per me c'è anche una sua idea di società quindi ci mette passione nelle cose che fa allora è vero che anche siccome sono un professionista delle volte affronto delle cause che sinceramente mi piacerebbe non affrontare e magari sono anche nella condizione fortunata di poter rifiutare dei lavori che non mi va di fare per fortuna diciamo così però invece quello che davvero funziona è quando tu partecipi alle cause e ci metti del tuo e quindi cerchi appunto di mettere dentro il rapporto sia con il cliente che con il tuo interlocutore istituzionale delle idee innovative delle cose che possano contribuire a far funzionare meglio il sistema e anche il bello è proprio la componente bella diciamo di questo lavoro naturalmente poi fa di tutto per aumentare la trasparenza negli interessi e nei messaggi e usa questo è un altro capitolo su cui dovremmo fare un'altra serata usa i social media per dare più potere ai singoli e alle organizzazioni l'uso dei social media in Italia è penoso è avvilente usano un po' tutti quanti i social media come i vecchi strumenti di propaganda adesso in campagna elettorale ne abbiamo avuto esempi clamorosi cioè ognuno va là e mette il suo messaggio senza mai avere senza mai che ci sia nulla di interattivo nessuno scambio nessun dialogo con gli utenti se solamente pensate invece a come esempio classico che si fa come li ha utilizzati Obama anche lì un grande lavoro alle radici avviato con i think tank in America agli inizi degli anni 2000 oppure il lavoro che ha fatto Beppe Grillo si capisce come l'uso dei social media anche qui deve essere attento non a prendere più potere ma a dare più potere agli interlocutori quindi più potere informativo più potere di conoscenza e quant'altro e ragazzi scusatemi tanto io ho finito ma questa è la sostanza del diciamo del nostro lavoro e anche soprattutto delle sfide che il nostro lavoro è chiamato ad affrontare anche in assenza appunto di quelle disposizioni legislative che ci farebbero bene grazie 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 a tutti